Il tiro con la punta Attenzione ancora a Catanzaro In avanti Tiago Oliveira Ne semina un paio Ancora poi Borsato con decisione Laterale in zona offensiva Servito Borsato Inzio Ecco Borsato Anche scivolando Ma l'importante è il risultato Che ora dice 2-1 Olympus Solgiata Ha segnato il numero 8 Pula a fianco a sé Luis Borsato Servito Vorrebbe caricare la botta Borsato A pochi centimetri dal palo Pula vorrebbe una conclusione Attenzione Pula è tutto solo Borsato Il 3-1 con scivolata Luis Borsato Eccola la doppietta Della numero 8 L'azione insistita Porta il 3-1 dell'Olympus